Presidente, oggi avete presentato il secondo piano di stralcio per quanto riguarda il restauro di opere religiose della nostra regione per un totale di 25 milioni di euro. 25 milioni di euro che vanno da 60 mila euro di una certa chiesa in provincia di Chieti al milione di euro per quanto riguarda chiese danneggiate dal terremoto o dal maltempo in corrispondenza di quella stagione rovinosa che noi abbiamo incontrato tra gennaio e febbraio del 2017. Voglio mettere in evidenza che ad oggi abbiamo assegnato 261 milioni di euro per 303 interventi riguardanti quattro piani stralcio concernenti sia l'edilizia scolastica, l'edilizia istituzionale, l'edilizia religiosa, l'edilizia cimiteriale, la viabilità. Quattro piani stralcio dei quali l'ultimo ha riguardato l'edilizia religiosa per 25 milioni di euro destinati alle chiese secondo un piano di interventi ulteriore di 88 interventi. Siamo molto soddisfatti di avere concordato questo piano di riqualificazione e rigenerazione delle chiese danneggiate con i sacerdoti e con la conferenza episcopale abruzzese e molisana. All'80-85% questi 25 milioni di euro riguardano il cratere sismico nuovo del 2016-17, al 15-20% riguarda comuni fuori cratere comunque danneggiati dal terremoto.